Benvenuti siamo nella sede di Bari di Gravina Parchi Group. Ogni giorno entrare nel negozio è sempre una scoperta e il lavoro è sempre bello ed entusiasmante. Pensare di riuscire a proporre un materiale vivo, eterno, un materiale che dà al tatto delle sensazioni e delle emozioni per ognuno sempre diverse, è sempre emozionante e coinvolgente. Qui potete trovare le migliori soluzioni per la vostra casa, per il vostro ufficio, per i vostri negozi, per la vostra casa al mare, per la vostra barca, pavimenti di alto design, come ad esempio il made-up di Lissone Giordano, pavimenti in legno solo certificati, pavimenti materici, pavimenti tecnici, novità come il microciamento, pavimenti per esterno in materiali compositi, boiserie. Il parquet può essere montato dappertutto, a pavimento, a parete, quindi montato anche come boiserie. Può essere montato anche all'esterno, senza nessun timore, può essere montato in cucina, nei bagni. L'attenzione è l'utilizzo dei prodotti giusti per la manutenzione, prodotti giusti che potete anche acquistare nel nostro showroom.